Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Serena Enardo, brutto momento per l'ex di Uomini e Donne, problemi di salute La bellissima di Serena Enardo è tornata di nuovo sulla bocca del gossip In molti infatti ricordano la bellissima Sarda come un ex tronista di Uomini e Donne Il suo percorso all'interno del programma sicuramente non è stato facile, soprattutto perché veniva continuamente accusata dal pubblico Oggi però Serena è molto seguita dal mondo del web e proprio sui social che ha fatto sapere la triste notizia Serena Enardo problemi di salute.La bellissima Sarda è tornata sui social a parlare ancora una volta dei suoi problemi di salute Pare infatti che già a febbraio l'ex tronista di Uomini e Donne avesse accusato strani problemi di salute che facevano riferimento a sintomi come debolezza e spossatezza che le hanno poteito ad uno svenimento Ancora una volta infatti la bellissima Serena, pare che si sia sentita molto male anche oggi Il primo a rendersi conto del malore della Sarda, è stato proprio il figlio Tommaso, che ha immediatamente chiamato i soccorsi e parenti Ad intervenire immediatamente è stata la mamma della giovane Serena e la gemella Elga La giovane infatti è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 Fortunatamente il tempestivo intervento del pronto soccorso hanno fatto riprendere l'ex tronista di Uomini e Donne Oggi su social, Serena, fa sapere ai suoi fans di stare bene e che si è ripresa molto bene, comunicando ai suoi fans queste parole Giovedì notte sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole Grazie ancora agli operatori dell'ambulanza, a Elga, che ha rischiato l'infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima Uno svenimento che ha portato tanto spavento ai suoi familiari ma che per fortuna si è risolta nei migliori dei modi Oggi Serena sta bene e cerca di tranquillizzare anche i suoi fans che hanno riempito i suoi direct di messaggi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti